Per assurdo abbiamo stati più pericolosi in 11 contro 11 che poi tutta la parte del primo tempo in cui è un po' quello che è successo domenica scorsa, abbiamo fatto qualche errore di valutazione, qualche errore insomma anche ingenuo, tipo qualche punizione regalata nel primo tempo, ripeto l'intervallo è stato molto importante secondo me perché ci siamo riorganizzati un attimo, ci siamo detti cosa dovevamo fare e cosa non dovevamo fare, poi siamo stati bravi e fortunati bravi a sbloccarla subito però sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, si è confermato un po' per l'avversario, fuori casa, in casa giocare non è mai facile, l'avversario è in grande condizione, siamo stati bravi, abbiamo rischiato poco e niente, a parte sul 2-0 quell'occasione, quel rimpallo sul resto abbiamo tenuto sempre il paligno del gioco, poi è chiaro che l'avversario ci aspettava, si è difeso molto bene, tutti dietro la linea della palla nella loro metà campo e diventa difficile, diventa difficile riuscire a sbloccarla, chiaro che poi in un in meno gli spazi si sono allargati un po' ma nel primo tempo abbiamo fatto fatica, nel secondo il gol ha aiutato, poi è chiaro che occasioni sono state tante e la squadra si è sciolta e siamo riusciti a portarla a casa. No, è importantissimo perché adesso abbiamo due settimane in cui dobbiamo ricaricare un po' le pile, recuperare un paio di giocatori e insomma era importante fare due settimane e lavorare bene, lavorare nel modo giusto con la testa libera e quindi prima di una sosta è sempre importante fare risultato. Ripeto, va bene, guardiamo anche gli altri chiaramente, però noi siamo concentrati su noi stessi, noi sappiamo che dobbiamo cercare di vincere ogni partita, ci è riuscito spesso, quasi sempre, però gli imprevisti, gli inciampi sono all'ordine del giorno perché è un campionato molto equilibrato, la dimostrazione è oggi, è stata domenica scorsa, quindi alla fine dobbiamo guardare noi, noi dobbiamo pensare a fare le nostre partite, cercare di vincerle, ripeto, e dopodiché guarderemo il risultato degli altri, però io sono contento perché la squadra dopo magari una sconfitta, una partita che è nata male, dopo è sempre reggito bene con delle serie di vittorie importanti, questo è un segno di mentalità importante. Diciamo che siamo stati bravi a crearci i presupposti per giocare questa partita un po' più in discesa, qualche episodio di dubbio c'è anche stato, però comunque abbiamo avuto pazienza e siamo stati bravi a gestire il palleggio, avere le occasioni giuste per colpire e fare male, siamo stati bravi nel secondo tempo ad aprirla, a sbloccarla e poi a chiuderla, quindi vittoria importantissima su un campo difficile contro una squadra in grande forma, quindi grande vittoria. La classifica è quella che è, però sappiamo tutti le ultime, perlomeno le ultime cinque gare del Breno, venivano da quattro vittorie e un pareggio, quindi era una squadra assolutamente in forma e siamo stati bravi a non sottovalutare la partita e a portarla a casa. Il gol è sempre un'emozione indescrivibile, per cui cerco di mettermi nelle condizioni di farne il più possibile, attacco spesso l'area, insomma il gioco aereo è una delle mie armi più forti, quindi è stato bravo Mauri a crossare e io bravo ad inserirmi, quindi speriamo di continuare a farne altri. Adesso questa vittoria dopo la sosta, prima della sosta ci voleva e non è mai semplice affrontare una gara prima di uno stop, per cui era importante portare a casa tre punti, abbiamo visto anche che sul campo avversario, sul campo dell'alcione perlomeno, i punti ne hanno fatto uno solo, per cui abbiamo anche dato un allungo in classifica e continuiamo noi per la nostra strada, che dipende tutto da noi, per cui continuando così ci toglieremo belle soddisfazioni.